Il segnale militare che sancisce il momento di andare a dormire. Tutti lo devono rispettare e quando si spengono le luci non è più permesso lasciare il proprio letto, tantomeno disturbare il sonno degli altri con urla e schiamazzi. No ragazzi, ci sono io! Aiuto ragazzi! Chi sei? Sono Martina. Ragazzi, spennete! No, vabbè ragazzi. Aspetta, vado avanti. Ma ti ho toccato? No, ne vorrei fare questo letto. Fammo questo letto, fammo! Elena, che cosa ci dici Elena? Niente, vado a lavarmi i denti. Sì. Come oggi? Oh, non vedo niente, ecco perché tocco, tocco, non vedo niente. Questa è la mia camminata, camminata. Vai, stai andando verso la piazza. Oh, comunque non c'è nessuno. Se facciamo piano si può rimanere qua comunque. Eccola, eccola. Se ne fosse una ribelle qua in mezzo. Nessuno! Ma non lo sappiamo che sei un angelo caduto dal cielo. Vieni, vieni. Un angelo caduto dal cielo. Ti che tocca a Linda? Chi sei? Chulipan. Chi anche ha detto chulipan? Linda, Linda. I ragazzi incuranti delle regole decidono di continuare a scherzare e divertirsi oltre l'orario consentito. Che c***o ti strilli. Cioè dai, nel senso, devi dire qualcosa. Ti avvicini e glielo dici, senza che strilli. Poi nella stessa stanza strilli. Dai, basta Giorgio! Cioè tanto lo sai che vengono, stanno qui apposta. Fermatemi qua. Sì. 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 Sì.